Ricast RX-T, 6 piedi 9, 4-9 grammi, due pezzi. Una canna che compone una serie numerosa di questi modelli. Ha un range estremamente concentrato tra i 4 e i 9 grammi, perché l'ideale è per lanciare esche di dimensioni abbastanza piccole, come dei piccoli ondulanti, dei minnov, anche dei rotanti, per la pesca principalmente in torrenti di medio e grande corso, perché una 2,10 metri ci permette di lanciare a notevoli distanze. È sempre una canna montata con gli anelli dell'American Taker, che diminuiscono le spire in uscita, quindi aumentano la precisione a distanza di lancio. Tutta montata come porta molinello componentistica Fuji, il sughero italiano. La canna montata non supera i 100 grammi di peso. Abbiamo un fusto estremamente sottile, un'azione che è di punta, ma abbastanza progressiva in tutta l'azione della canna. Ci permette di combattere con pesce anche di notevoli dimensioni, senza perdere il contatto col pesce. È molto importante per evitare slamature o inconvenienti poco piacevoli. viene interamente assemblata in Italia, quindi stiamo parlando di una serie di canne dove la caratteristica principale non sono tanto i fronzoli, le legature, il filettino dorato, la placchettina, queste cose qua, ma stiamo parlando di una canna essenziale, estremamente gradevole in pesca e costruita per andare a pescare. Ricast RX-T, 6 piedi 9, 2 metri e 10, 4-9 grammi. Una delle migliori canne in commercio per quanto riguarda la pesca con esche di medie e piccole dimensioni, interamente costruita in Italia.